Buongiorno, sono Giuliana Buffarini, la socia fondatrice della ditta Buffarini SRL e sono partita da un'azienda familiare, lasciatemi da mio padre e poi alla fine da un servizio di Spurgo siamo poi passati a dei servizi ambientali, al servizio di chi aveva bisogno di noi. Oggi mi sento molto soddisfatta e contenta dalla mia azienda e del progresso in ogni momento e in ogni momento della situazione ambientale. Grazie, vi lascio un mio saluto e vi saluto con il mio ok, ci sono sempre. Grazie.